Ciao a tutti, bentrovati. Io mi chiamo Enza Broccoli, sono una storica, un'archeologa, una divulgatrice, una guida turistica, ma oggi sono principalmente una socia CAI della sezione di Monterotono. E oggi, nella sede CAI, ci saremmo dovuti incontrare per fare una breve presentazione di un'attività che si doveva svolgere sabato 9 maggio, in una tappa della Via di Francesco. Sabato 9 maggio saremmo poi dovuti andare insieme a vedere il sito archeologico che c'è nel comune di Monte Leone e Sabino. Sabato 9 era prevista la tappa che va della via di Francesco che va da Monte Leone-Sabino a Ponticelli e quindi ci saremmo incontrati lì per scoprire insieme il sito archeologico di Monte Leone-Sabino. Ed è per questo che oggi abbiamo organizzato questo incontro virtuale per farvi una breve presentazione di quello che ci diremo quanto prima in presenza e quindi introdurvi un po' la Via Salaria e soprattutto il sito di Trebula Mutuesca. Allora, iniziamo. La Via Salaria. La Via Salaria è un tracciato viario antichissimo, risale già al Neolitico. Era un tracciato viario già presente nel Neolitico, anche se probabilmente non ancora unificato, ma solo con tratti che permettevano di raggiungere le varie località. Poi dall'età del ferro la Via Salaria è una strada già ben tracciata, ben conosciuta, che metteva in collegamento la costa tirrenica con la costa adriatica. La Via Salaria sappiamo benissimo che parte da Roma e nel suo tratto iniziale segue molto da vicino il corso del fiume Tevere fino ad arrivare qui, a questo punto un po' prima di Cures Sabini, dove si divide e si lascia il corso del Tevere e penetra verso l'interno per raggiungere poi la costa adriatica. Qui vediamo tutto il percorso fino a Porto d'Ascoli che attualmente è compreso nel comune di San Benedetto del Pronto. Ecco, poco dopo la bifurcazione, quindi poco dopo e che il percorso della Salaria abbandona il corso del fiume Tevere troviamo il nostro sito, la nostra tappa Monte Leone-Sabino. In realtà sorge poco distante dalla vecchia Salaria e sorge lungo un tratto di strada che è in realtà un tracciato viario minore ma che comunque permetteva un collegamento con la costa adriatica un po' più a sud e questo tracciato viario era noto come Via Quinzia. Quindi Monte Leone-Sabino si trova attualmente ad un incrocio fra due importanti tracciati viari, la via Salaria sicuramente importantissima e anche la via Quinzia. Salaria, la via Salaria, credo che tutti voi sappiate benissimo che il nome deriva dal sale. Questo ce lo dice Plinio, un notissimo autore latino, Plinio nella sua Naturalis Historia, primo secolo, Plinio ci dice che la Salaria si chiama così perché si era deciso che attraverso quella strada i Romani trasportassero il sale ai Sabini, nell'area Sabina. Quindi la Salaria è una via commerciale, la Salaria romana è una via che nasce perché deve servire una rotta commerciale che è quella di distribuire il sale, portare il sale al popolo sabino che è nell'interno. Il sale è un elemento che ha un'origine antichissima, la sua utilità, la scoperta della sua utilità è antichissima. Già nel Neolitico il sale era ampiamente utilizzato, era ampiamente utilizzato per la conservazione dei cibi, era utilizzato per conservare il sale, il pesce, per conservare la carne, ma era utilizzato anche nell'industria artigianale, era conservato anche per la produzione, era utilizzato per esempio per la concia del cuoio. Il sale è quindi un elemento di grandissima importanza per l'uomo sin dalle epoche più remote e controllare, avere il monopolio del sale significava avere potere economico. Solo successivamente rispetto a questi primi utilizzi, il sale entra nella cucina, entra nella cottura dei cibi e quindi è legato al gusto, al sapore. Ecco il termine sapidità. Quindi in realtà il termine sapidità è successivo, legato al gusto, legato al gusto, al sapore, perché l'utilizzo iniziale del sale era legato, abbiamo detto, alla conservazione ed alla produzione. Ma Roma dove prendeva il sale? Questo sale così importante che doveva poi portare come bene commerciale nell'area sabina. Dove lo prendeva? inizialmente. Ebbene lo prendeva in quello che era noto come campus salinarum romanorum. Ecco vi ho delineato l'area, l'area delle saline, le saline romane, non solo qui in realtà, erano sulla riva destra del Tevere ma poi anche sulla riva sinistra. Queste saline sono nell'area dell'aeroporto di Fiumicino, all'aeroporto Leonardo da Vinci più o meno, dove era l'antico stagno di Maccarese ed erano anche nei pressi di Ostia, quindi una vasta aria dedicata alle saline. Ma queste saline erano nella fase storica più antica di proprietà etrusca, non erano romane. Il campus salinarum apparteneva alla città di Veio, era un territorio etrusco, era un territorio veiente. Ed ecco uno dei motivi per cui Roma inizia la sua guerra contro Veio, probabilmente una guerra del sale. Roma inizia un percorso di conquista che la porterà appunto ad impossessarsi dei territori veienti nel 396 avanti Cristo. Quarto secolo avanti Cristo, quindi Roma diventa padrona delle saline e diventa, quest'area diventa campus salinarum romanorum. Ecco il sale quindi arriva a Roma, arriva al foro Boario e da Roma viene smistato, viene smerciato e viene portato al popolo sabino mediante la via salaria. Ecco quindi la tappa più importante della salaria per i romani era quella che andava da Roma a Reate, l'attuale Rieti, che costituiva l'asse di penetrazione nel cuore del popolo salbino. Da qui poi scavalcava gli appennini e arrivava fino alla costa adriatica dove adesso c'è da Dascoli che anticamente aveva il nome di Castrum Truentinum. La via salaria era lunga 138 miglia e più o meno a metà della via salaria in località Masso dell'Orso, in provincia di Rieti, in una località chiamata Posta, proprio perché c'era una delle stazioni di posta, cioè una delle soste per il cambio cavalli, in località Masso dell'Orso è stato trovato il 69esimo miglio, milium 69 della salaria, perché la salaria ha impegnato i romani anche da un punto di vista delle tecniche costruttive, da un punto di vista ingegneristico. Non è stato facile rendere questa strada percorribile secondo quello che era il concetto romano di percorribilità, perché ricordiamoci che il tracciato viario esisteva già ma è stato trasformato dai romani. Ecco il miglio, il 69esimo miglio è più o meno qui, più o meno in questa zona, ecco qui torno indietro, più o meno in questa zona, dove c'è Posta e c'è Masso dell'Orso. Che cosa c'è Masso dell'Orso? Oltre al 69esimo miglio. C'è un'opera ingegneristica eccezionale, una parete verticale di 30 metri di altezza, interamente scolpita a mano e perfettamente perpendicolare, un'ammirabile opera realizzata dall'uomo, un mirabile manufatto e questo manufatto conservava all'interno della parete ecco un incasso previsto per un epigrafe, un'iscrizione che doveva ricordare il lavoro di manutenzione effettuato in questo punto. Chiaramente c'è l'incasso e ci sono i fori per incastrare l'epigrafe che doveva essere tenuta da grappe metalliche all'interno della parete rocciosa ma purtroppo l'epigrafe non c'è più, non la conosciamo. Abbiamo tante altre epigrafi di manutenzione della via salaria ma non questa. Torniamo al nostro percorso. Prima quindi di arrivare a Rieti in quella tappa della salaria che è l'asse di penetrazione verso il cuore della sabina proviamo la nostra trebula mutuesca. Ecco qui. Trebula mutuesca. Di fronte c'è Ures. Qui ci sono alcuni dei più importanti siti della sabina tiberina perché in realtà la sabina si divideva in sabina interna e sabina tiberina. Ancora oggi la possiamo dividere sabina interna e sabina tiberina perché in base a che cosa? In base alla ricchezza degli insediamenti. La sabina tiberina aveva la fortuna di avere due grandi assi di penetrazione. Una era la via d'acqua, che era il tevere e l'altra era la salaria, la via di terra. La sabina interna, quella che aveva solo gli assi di penetrazione per vie terrestre, chiaramente era meno facilitata per il raggiungimento delle merci e quindi avendo scambi commerciali più circoscritti più limitati si configura come meno sviluppata, meno ricca rispetto alla sabina tiberina dove c'è la nostra trebula mutuesca. Ecco pensiamo al nome trebula, trebula mutuesca. Quante volte l'abbiamo sentito questo nome, questo toponimo? Trebula, il nome legato al luogo si chiama toponimo perché topos vuol dire luogo in greco. Ecco diamo un'occhiata facendo una piccolissima ricerca vediamo in Italia centro meridionale quante volte ricorre il toponimo trebula. Vediamo un attimo, la nostra trebula metuesca sicuramente, poi una trebula su Fenass nella zona di Tivoli, poi in Abruzzo c'è una trebula dove c'è un sito archeologico in provincia di Chieti e poi in Campania ci sono i monti trebulani. Vedete che questo toponimo trebula ricorre spesso in un'area che è un'area osco-sannita, in area sabina prima e sannita dopo. Non ci dimentichiamo che i sanniti non sono altro che i sabini che si sono spostati per successive migrazioni. Quindi il toponimo trebula è un toponimo che è tipico della popolazione sabina e poi sannita perché ripeto i sanniti non sono altro che i sabini che poi si sono trasferiti nel corso dei secoli per migrazioni successive. Trebula infatti deriverebbe proprio dalla lingua osca, da una radice treb che voleva significare insediamento, poi qualcuno lo riconduce anche ad una radice latina trab, casale, ma sono similari le cose, e mutuesca da che cosa deriva. Mutuesca anche se è un termine di origine sabina e vuol dire qualcosa simile a paludoso, pantano. In realtà questa ipotesi trova conferma in una antica radice della lingua indoeuropea. La radice mue o mu in indoeuropeo era portatrice di significato essere bagnato. Quindi trebula mutuesca voleva dire un insediamento in un luogo paludoso, in un luogo che è un pantano. E infatti se andiamo a vedere oggi il sito di trebula mutuesca, vediamo che è ancora presente il toponimo pantano. Quest'area è definita pantano. Ecco qui vediamo che emergono gli scavi dell'antico anfiteatro romano di trebula mutuesca e qui vediamo che è nominato un santuario di Santa Vittoria che sorge su dei terrazzamenti artificiali, quindi sulle pendici, su un colle a faccia, su quella che è chiamata pantano e qui c'era anticamente un santuario dedicato alla dea Feronia. Trebula mutuesca in epoca sabbina era un vicus. In realtà ancora in epoca romana è conosciuta come vicus. Virgilio lo cita come vicus e loda questo insediamento per la qualità della produzione del suo olio. La chiama città olivifera. Quindi ne esalta una caratteristica che ancora oggi delinea questo territorio, cioè quella della produzione della produzione dell'olio. Ma che cos'era? Un vicus all'interno del sistema insediativo territoriale dei sabbini e poi dei sanneti. Il vicus è un insediamento che si trovava o in pianura o in una zona pedemontana e svolgeva una funzione economica perché aveva o delle attività produttive o rappresentava un centro di scambio commerciale. Ma che significa questo? Bene, questo ci riporta al sistema di insediamento degli antichi sabbini e dei sanneti che non avevano un sistema di insediamento urbano per città, ma avevano un sistema di insediamento paganico vicano, cioè per strutture sparse sul territorio che erano il pagus, il vigus, il vicus e l'oppidum e ogni insediamento sul territorio faceva parte di un'unica unità amministrativa che era il touto. All'interno del touto e vedete qui riassunto in questo diagramma c'erano questi insediamenti, facevano parte di un'unica unità amministrativa e il vicus era un insediamento pedemontano con funzione commerciale. L'oppidum per esempio invece era un insediamento d'altura ed era una città fortificata e questi insediamenti erano uniti da un sistema stradale. Ecco, Trebula Mutuesca era un vicus sabbino e ancora nel secondo secolo avanti Cristo è attestata come vicus. Infatti questa è un'epigrafe dove si legge il termine vico, quindi un'iscrizione del secondo secolo in cui Trebula compare ancora come vicus, anche dopo la conquista romana. 290 avanti Cristo, Curio Dentato conquista la sabbina. A quel punto la salaria entra a far parte delle strade consolari romane e il territorio di Trebula diventa ager romanus, territorio romano, diventa territorio in cui avviene quel lento e graduale processo di romanizzazione e Trebula da vicus diventerà municipium, una città cioè legata a Roma tramite un patto ma che conserva per il momento una propria autonomia, le proprie cariche. Da quel momento in poi la salaria che diventa strada consolare, la via Quinzia, la via Cecilia, quindi un sistema di strade che vedono l'unione della costa tirrenica con la costa adriatica, la romanizzazione, la progressiva romanizzazione del territorio. Questo vicus che diventa municipium si ingrandisce e comincia ad assumere i contorni, la caratteristica di una città romana con il foro, le terme, gli edifici pubblici e man mano migliora. Nel secondo secolo dopo Cristo abbiamo un'importante monumentalizzazione del sito grazie a un forte impegno economico di una famiglia locale di ricchi proprietari terrieri e la nostra trebula mutuesca si dota di un anfiteatro, delle terme, di grandi cisterne, quindi trebula diventa in tutto e per tutto un tipico insediamento romano, una tipica città romana di cui conserva ancora i toponimi. Ecco diamo un'occhiata alla carta planimetrica del luogo dove sorge l'insediamento di trebula. Ecco qui vediamo due realtà che già abbiamo visto prima sulle mappe di Google, l'anfiteatro e il santuario di Santa Vittoria che sorge su un antico santuario dedicato alla Dea Feronia. Ma guardiamo la località Pantano, eccola, che si trova proprio a ridosso, a metà fra l'anfiteatro e il terrazzamento del santuario è fra due colli, Colle Foro e Colle Diana. Vedete come la toponomastica ancora una volta ci viene in aiuto e ci riporta ad una chiara ed evidente romanizzazione e quindi ci dà la testimonianza della fase romana di questo insediamento che sabato saremmo dovuti andare a vedere. Ecco una foto dall'alto dello scavo dell'anfiteatro di Trebula Mutuesca che quando avremo la possibilità di andare visiteremo e attraverseremo anche i corridoi di servizio che portavano all'interno dell'arena dell'anfiteatro. Ecco un'altra visuale stavolta dall'altro in modo che si vede il passaggio centrale sotterraneo e poi ancora la chiesa di Santa Vittoria. Una testimonianza importantissima, una chiesa romanica che sorge sul luogo dove è stata martirizzata la nobildonna romana Vittoria che è diventata Santa Vittoria che è un gioiello del reimpiego, del riutilizzo e piena di evidenze provenienti dall'antica città romana. Quindi un gioiello artistico architettonico perché è una chiesa romanica e un gioiello per il riutilizzo che ha nelle sue pareti. Ecco un interno, uno stralcio dell'interno con i resti degli affreschi e poi ecco qui una foto dove si vede in parete il riutilizzo di una colonna romana e ancora in facciata, in facciata il riutilizzo, di un bellissimo leone funerario romano ma anche all'ingresso dell'area del santuario di Santa Vittoria leoni funerari, maestosi e bellissimi leoni funerari. Ecco ancora una foto dei resti archeologici che ci sono intorno al santuario di Santa Vittoria. Ecco questo è un primo piano di un altro leone. Ecco leone, oggi il comune all'interno del quale c'è trebula mutuesca è chiamato Monte Leone Sabino. Probabilmente, probabilmente questo toponimo deriva proprio dalla gran quantità di leoni fittili ma anche leoni lapidei che provengono da questo territorio, dai monumenti funebri di questo territorio. Ecco un bellissimo esemplare che è conservato nel Museo Civico Arteologico di Monte Leone Sabino. Questi leoni come monumenti funerari sono diffusi un po' in tutta Italia. Ecco questa è una mappa di diffusione di questo elemento di decoro funerario, ma vediamo che la maggiore concentrazione c'è proprio in quest'area, in area Sabina, Posco, Sannita. In realtà questi sono molto frequenti a Monte Leone Sabino e ad Amiternum. Ricapitolando quindi, questo sito archeologico è conosciuto già dall'ottavo al quarto secolo avanti Cristo come Vicussa, in questo insediamento paganico vicano tipico dei Sabini. Poi questo territorio viene conquistato dai Romani, 290 avanti Cristo diventa Ager Romanum, nasce il municipio dal primo secolo dopo Cristo al secondo secolo dopo Cristo, sia il periodo di maggiore splendore grazie anche al finanziamento di ricchi proprietari terreni locali. Poi nel 253 persecuzione di Decio, luogo del martirio di Santa Vittoria, dove sorgerà il santuario di Santa Vittoria che oggi conserva numerose testimonianze archeologiche del di Trebula Mutuesca. Nel nono secolo dopo Cristo sorge a un chilometro da l'antica Trebula Mutuesca, sorge grazie ai padri dell'abbazia di Farfa, sotto il cui dominio questo territorio risulta, in quell'epoca sorge l'abitato di Monte Leone Sabino. In realtà in una bolla di Papa Martino secondo del 943 dopo Cristo si parla di un Leonem Montanianum che sarebbe da identificare proprio con Monte Leone Sabino, anch'esso ricchissimo di testimonianze archeologiche provenienti dalla nostra Trebula Mutuesca. E allora in attesa di vederci presto e in attesa di andare a vedere di persona questo splendido sito archeologico e di parlare in maniera più approfondita della sua storia. Vi saluto e vi auguro una buona serata. Alla prossima, ciao!